Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books e benvenuti nell'ultimo video dell'anno io come sempre sono Tiffany e oggi, per la prima volta devo dire sul mio canale perché lo faccio spesso su Instagram ma molto meno su questi schermi però diciamo che inauguriamo l'Oroscope Fiction 2020 ovvero l'intento di questo video non è chiaramente di fare qualcosa di serio se non credete all'oroscopo avete ragione non c'è nulla di serio nell'intenzione che ha l'Oroscope Fiction anzi, tutto tranne che essere seri però ci tenevo a lasciarvi quest'anno con un buon auspicio insomma, una sorta di video che potesse darci un po' la carica per iniziare l'anno nuovo con un po' di positività che di solito non mi contraddistingue quindi insomma, lo scopo di questo video è divertirci un po' insieme esplorare un po' tutti i vari segni e il loro destino nel 2020 giuro che ho studiato un sacco per questo video sotto trovate anche alcune fonti secondo me molto attendibili se credete nell'oroscopo ma non è necessario crederci potete anche mandare tutto in vacca però insomma, raccogliete le energie positive esploriamo insieme segno per segno così vi do anche qualche consiglio di lettura che secondo me non fa mai male allora, partiamo ovviamente dal primo segno in ordine che è quello della riete allora, il 2020 inizia con un giove che è salito in cima nella chart solare di tutti i nostri amici della riete e questo fa sì che chiaramente gli obiettivi le ambizioni, la carriera e la ricerca di un'affermazione nella propria reputazione continuino sicuramente a essere un motivo trascinante anche del prossimo anno continua a crescere e svilupparsi la voglia di darsi obiettivi dal punto di vista lavorativo anche perché è questo momento dove i vostri talenti e le vostre abilità sono riconosciute come non era mai stato possibile fino ad ora, negli ultimi 7-8 anni cioè che più o meno questo va avanti da 7-8 anni ma ora è un momento davvero propizio poi ci rivediamo al prossimo ciclo solare tutto il lavoro che avete svolto finalmente inizia a dare i suoi frutti viene premiato e viene riconosciuto e infatti il 2020 è un po' per la riete un anno di svolta finalmente si arriva a una sorta di scontro finale potremmo dire con una serie di battaglie che vi portavate sulle spalle da anni e che a un certo punto devono trovare la propria conclusione gli arieti infatti in questa fase superano le proprie insicurezze e ci sarà un po' con la sensazione di diventare grande di riuscire a prendere in mano le cose è un po' l'anno giusto per mettersi in proprio per iniziare delle nuove avventure lavorative per lanciare un'attività oppure per affermarsi nel campo lavorativo non c'è bisogno di mettersi nuovamente alla prova sentire quell'area di sfida e questo vi dà una certa sicurezza vi fa sentire bene un po' più come se tirasse il fiato avete la possibilità di brillare ma non perché acquisite delle capacità straordinarie ma perché state parlando di voi e vedendo voi stessi con un rispetto ritrovato e anche con una grande fiducia nelle vostre capacità è probabile che il 2020 sia anche un anno dove ci siano nuove amicizie in arrivo anche importanti e che da queste possiate trovare un supporto adeguato e che fondamentalmente stavate anche cercando e mentre questo sarà un anno che sarà molto significativo per i vostri progressi soprattutto legati al mondo esterno al mondo lavorativo questo riconoscimento esterno vi dà maggiore sicurezza anche sul piano personale sarà un anno di grandi scelte e grandi traguardi anche da quel punto di vista per dire l'apertura di un nuovo amore probabilmente fortunato grandi scelte come forse la convivenza, un matrimonio, un passo in più verso il partner e mi raccomando per tutti gli ariete singoli e mi raccomando voi lo sapete bene che il rischio di frenzone, di palate in fronte è altissimo quindi dovete giocarvi tutte le vostre carte però senza avere paura questa volta buttatevi con sicurezza e questo trasmetterà altrettanta sicurezza insomma niente paura che tanto quest'anno andate a spaccare partiamo già carichi quindi siamo presi bene e insomma con che libri premiamo gli arietti in questo 2020? bisogna leggere delle storie secondo me di ambizione, di talento e anche un po' di buoni auspici quindi il primo titolo che vi consiglio sicuramente è The Winner's Curse di Maria Rutkowski che è disponibile anche in italiano quindi non avete neanche più scuse ed è stata tradotta tutta la trilogia perché abbiamo a che fare con Kestrel che è una persona estremamente intelligente in maniera anticonvenzionale a volte ma soprattutto che non ha paura di prendere in mano le cose e sfruttare proprio i suoi punti più forti non sempre le riesce ma non si fa mai abbattere da tutte le difficoltà che trova sulla sua strada quindi insomma è un ottimo esempio secondo me da leggere per gli arietti e in più vi consiglio anche ovviamente Il Sognatore di Lainey Taylor che secondo me tra l'altro è anche un titolo che si avvicina parecchio a gli amici della riete come direbbe Paolo Fox e perché in fondo Il Sognatore è una storia di un sogno così grande che quando diventa realtà è qualcosa di intangibile forse ci fa un po' paura però in questo caso invece che essere spaventati dobbiamo fare come l'aslo non fermarci e abbracciare questa sicurezza ritrovata che ci può dare anche la realizzazione proprio di un sogno oh continuiamo ovviamente perché siamo arrivati al toro e quest'anno è un anno importante un po' per tutti i segni dello zodiaco e devo dire che sono contenta anche perché quest'anno il toro si troverà di fronte a un anno di grande rivoluzione di grande cambiamento in primis proprio perché ne sente la necessità cambiare magari lavoro, ruolo cambiare città, trasferirsi rivedere magari le proprie attività extra lavorative il toro che di solito è molto titubante nell'affrontare certe scelte perché lo spaventano troverà la forza e il coraggio di provarci è incredibile me ne rendo conto infatti in questo anno un po' tutti i sistemi di credenze di esperienze, di approfondimento, di avventura continuano a svilupparsi, a crescere con un ritmo tanto rapido proprio perché se ne sente la necessità e quindi i toro acquisiranno grande coraggio e grande intraprendenza cosa che di solito non contraddistingue questo segno insomma è come sentire che là fuori c'è qualcosa di più e che è arrivato finalmente il momento di coglierlo è un transito che però non è ovviamente lampante non è una grande illuminazione qualcosa di sottile che però piano piano fa acquisire ai toro tanta sicurezza e questo è importante è un momento della vita dove non c'è da sudare per ogni piccola conquista per ogni piccola cosa nella propria vita perché c'è una serie di congiunzioni astrali che questo è il caso di dire che ti danno una prospettiva anche forse più ampia della vita in generale ti senti più sopportato che di solito invece è una fonte di grande insicurezza e anche i piccoli inconvenienti che tutti noi subiamo di solito ti mettono in grande difficoltà quest'anno invece non ti danno più così tanto fastidio insomma entri in una prospettiva anche molto ottimista e molto positiva quindi insomma è un anno dove bisogna mettersi tanto 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 al centro e imparare cose nuove fare esperienza provare, duttarsi perché il prossimo ciclo che partirà a dicembre 2020 invece segnerà una centralità dal punto di vista del lavoro e quindi bisogna arrivarci preparati e belli carichi ma parliamo di amore allora nella prima parte dell'anno Marte è nel tuo settore dell'intimità e può davvero essere un grande aiuto per accendere un po' una vita che sentimentalmente a volte sembra un po' spenta un po' fiacca mentre fino a giugno venere tra la prima e la terza casa quindi è il momento di agire anche in questo caso non lasciatevi scappare l'occasione pronti a colpire non tiratevi indietro buttatevi passerete i sei mesi successivi probabilmente a schivare con delle mosse da Matrix ogni problema ma tanto voi in questo ormai avete la laurea però diciamocelo prima o poi andranno affrontati potrebbero esserci degli aggiustamenti da fare e sarà il momento di farlo soprattutto in campo delle relazioni anche in incontri appena fatti che devono avere delle situazioni più chiare soprattutto per voi stessi e rapporti che magari fino ad ora non avevate mai davvero discusso perché vi mettevano un po' in difficoltà quindi insomma questo è il vostro anno per prendere in mano le decisioni importanti e non avere paura quindi che cosa vi consiglio di leggere per il 2020? bisogna leggere un libro che parla di scelte rivoluzionari che ci mettono in difficoltà ma che non ci fanno paura e in questo caso io non posso che chiaramente consigliarvi Principe e la Sartre di Jen Wang perché è quale scelta più rivoluzionaria se non quella di andare contro tutti e tutti sfidando ogni stereotipo e riuscendo ad essere felice ad abbracciare la propria felicità che non è una cosa facile ma anche ovviamente un altro dei miei fumetti serie preferiti ovvero Saga perché Saga racconta di battaglie intergalattiche che si basano fondamentalmente su una scelta molto rivoluzionaria quello di amare una persona indipendentemente da ciò che è e dal mondo in cui proviene e quindi quale miglior auspicio se non no però vabbè comunque è la serie cioè Saga io a un certo punto ve la devo consigliare e quella è una Saga molto rivoluzionaria in tutto e per tutto quindi leggetelo poi arriviamo ai Gemelli di cui fa parte anche la sottoscritta e io sono tra l'altro ascendente Gemelli anche tanto per non farmi mancare niente e ce l'ho anche come terzo ascendente quindi proprio la persona peggiore che potreste incontrare in ogni caso finalmente raga possiamo festeggiare nel 2020 è commovente sapere che Saturno non è più contro perché negli ultimi sette anni è stato così ma si mette in un'altra posizione smette di scassare le balle in pratica nel 2020 si apre una nuova epoca per i Gemelli dove iniziamo un po' ad avere un po' più di attenzione per la nostra sfera privata che di solito balziamo come poche cose al mondo il Gemelli di solito è già di per sé una persona molto concentrata su se stesso però è vero anche che non fa mai troppo approfondimento perché l'approfondimento è problematico quest'anno invece ce lo prendiamo per pensare alla nostra sfera più intima personale per approfondire proprio i meccanismi interiori e in questo modo anche riuscire a migliorare quelle che sono le relazioni con l'esterno e a comprendere un po' meglio non solo le esigenze degli altri ma anche le nostre insomma ci sarà un transito di una serie di pianeti lungo addirittura un anno e questo ci darà modo proprio di esplorare meglio alcuni aspetti alcuni meccanismi cogliere opportunità che ci fanno sentire come una versione un po' potenziata di noi stessi insomma è anche una fase dove riusciamo ad abbracciare un po' il cambiamento anche quello interiore che di solito ci destabilizza tantissimo e potrebbero anche comparire durante l'anno diverse opportunità sia di lavoro ma anche in ambito finanziario in ambito economico e durante l'anno si presenteranno una serie di occasioni dal punto di vista lavorativo economico finanziario ma anche emotivo e in questo caso bisogna che stiamo un po' attenti il gemelli deve stare un po' attento primo perché potrebbero avere potrebbero esserci dei risvolti negativi in ambito insomma fondamentalmente nei soldi ma se queste scelte queste opportunità vengono colte con una prospettiva un po' ragionata e un po' pensata e pianificata sicuramente non sono da lasciarsi sfuggire in ambito amorosi invece e cari gemelli ci sarà una sorta di metamorfosi legata proprio alle partnership le coppie già costituite ritroveranno una fase più costruttiva e serena nella relazione e stare con un gemelli io non lo auguro a nessuno quantomeno al mio povero marito ma quello forse non dipende dal mio segno e per chi invece cerca l'amore il 2020 sarà invece un anno dove ci saranno tante possibilità e tante occasioni i tempi sono maturi per incontrare una persona o una serie di persone che possono fare per noi e con i quali potremmo costruire qualcosa di più interessante rispetto a tutte le cattive esperienze del passato e con che libro premiamo i gemelli che libro consigliamo ai gemelli nel 2020 bisogna leggere delle storie dove le opportunità da cogliere non si fanno attendere e quindi sicuramente vi consiglio in primis The Starless Sea di Erin Morgenstern che è proprio un libro che si basa anche su un gioco di chiavi sull'aprire porte entrarci ed esplorare nuovi mondi con sicurezza ritrovata cogliere quell'opportunità perché se si lascia indietro probabilmente è un qualcosa di perso per cui ci pentiremmo e poi sicuramente vi consiglio anche Moxie di Jennifer Matthew tradotto in italiano Girl Power perché è una storia dove davanti a un'occasione che si presenta e neanche troppo felice un gruppo di ragazze prende in mano la propria vita e decide di fare qualcosa di rivoluzionario niente quindi questi sono i miei consigli per i gemelli passo al cancro perché non so quest'anno c'è una buona chart solare che sembra premettere molto bene per tutti e il 2020 per il cancro sarà un anno pazzesco sarà un anno epico incredibilmente sarà pronto ad alzare la testa dire basta quando serve e smettere di accettare continuamente le questioni scomode che fino ad ora aveva dovuto sorbirsi per non dare fastidio un po' per timore insomma per tante questioni non c'è più la paura di perdere che ha contraddistinto diversi anni fino a questo momento quella di fallire e quindi troverà la carica giusta per uscirne vincitore finalmente si chiudono tutti i discorsi lasciati in sospeso si guarda alle nuove prospettive con un ritrovato ottimismo e in amore questo significherà anche chiedere un po' di più mister fiction e cancro bene le tue collaborazioni le tue abilità relazionali e il potere di contrattazione o di negoziazione iniziano a crescere ed espandersi inizi anche ad acquistare sicurezza in questi ambiti sarà un anno che sarà focalizzato sicuramente su alcuni cambiamenti importanti magari lavorativi però sarà anche un anno importante per indagare un po' di più su te stesso e sulle relazioni che hai stabilito sia che siano amorose amicizie o in campo lavorativo insomma pensate al 2020 come una sorta di setaccio che vi farà rendere un po' conto delle situazioni scomode che fino ad ora avevate un po' digerito e mandato giù oppure sopportato e in questo caso sarà l'occasione anche per lasciare un po' indietro tutta questa roba che vi dà fastidio e in amore come andrà quest'anno? sicuramente ci saranno tante spinte tante energie nuove sempre in movimento il prossimo ciclo che inizia e arriva fino alla fine del 2020 circa il 20 dicembre che aiuta ad avere successo nello stabilire nuove relazioni o a migliorare sistemare lo stato o la situazione di una relazione già in essere questo transito potrebbe addirittura significare la fine di una relazione già esistente ma che probabilmente non vi rende più felici e probabilmente vivrete questa rottura come un sollievo poiché questo non vi dava più soddisfazione infatti porrete molta attenzione sia nelle relazioni già in essere sia in quelle che potrebbero costituirsi a partner concentrati molto su se stessi invece che sulla coppia o anche sulla coppia quindi questo 2020 che libro si porta come consiglio secondo me bisogna leggere una storia che parli di rialzare la testa e riprendere in mano il proprio destino quindi non posso che suggerirvi ovviamente And I Darken Io sono Buio di Kirsten White che è l'emblema della persona che si riprende in mano tutto il proprio destino anche a costo di sfasciare tutto ma un po' a noi ci piacciono quelle persone lì e chi altro se non l'ha da Dracul è una persona che non si fa intimorire e alza la testa e un'altra storia invece di destino proprio ripreso sulle proprie mani cose imparate cose che si vanno a delineare grazie anche a degli incontri fortuiti e a una nuova consapevolezza a uno spirito molto nuovo come quello che acquisisce Lyra nella bussola d'oro di Philip Pullman che non posso fare altro che consigliarvi anche perché è il libro del Miss Fiction Book Club di questo mese siamo arrivati al Leone e in questo caso il 2020 per il Leone segna davvero un giro di boa molto importante cambiamenti nuove prospettive che si aprono anche dal punto di vista lavorativo insomma tante nuove strade si pongono davanti a voi si ritroveranno invece lungo la strada proprio persone perse di vista o situazioni accantonate messe da parte un po' lasciate in secondo piano un po' lasciate in secondo piano che potrebbero invece rivelarsi dei ritrovamenti preziosi sia in campo affettivo che professionale quello del 2020 sarà un clima un po' imprevedibile avventuroso ma che vi farà davvero riprendere in mano cose che avevate messo da parte lasciato forse troppo indietro anche perché c'è una certa tranquillità visto che la routine quotidiana la salute e anche il lavoro sono ambiti che continuano ad espandersi migliorare crescere e nuove opportunità invece si fanno trovare magari proprio nei punti che noi avevamo un po' lasciato perdere ritrovate una certa fiducia nell'affrontare progetti e cose nuove tuttavia fate attenzione a non sovraccaricarvi troppo perché sono occasioni preziose da sfruttare ma non esagerate c'è un transito di Saturno durante l'anno che vi dà una mano a mantenermi in riga e sempre produttivi quindi sfruttate queste vostre capacità ritrovate pensate sempre che quando state offrendo un servizio agli altri quando state mettendo in gioco delle parti insieme ad altre persone pensate sempre che ci saranno una serie di opportunità in congiunzione con gli altri magari offrendo un servizio una collaborazione cercando di fare qualcosa insieme si rivelerà il punto chiave e la vostra più grande forza nel 2020 perché potrebbe sicuramente prosperare l'ambito dell'amore magari non lo tocchiamo quest'anno diciamo che da quel punto di vista lì anche se preferite che tutto vada liscio e che insomma non vi dia grandi problemi purtroppo non sarà sempre così non è così una relazione però siete anche molto poco tolleranti da questi punti visti quindi forse concentratevi molto sul capire dove volete andare anche in ambito amoroso quest'anno prendetevelo come un anno dove è giusto ragionare molto sia per chi ha delle coppie già esistenti sia per chi vorrebbe formarne una perché probabilmente quest'anno sarete un po' irritabili e molto suscettibili da quel punto di vista lì quindi direi di passare al consiglio letterario che cosa vi consiglio di leggere in questo 2020 secondo me bisogna leggere sicuramente un libro che vi parli di una storia che parte da un punto di vista iniziale che non è assolutamente quello di arrivo dove c'è dell'avventura dove c'è qualcosa di nuovo da scoprire quindi la prima storia che vi consiglio è quella che c'è dentro nella favola Travelite di Naomi Mitchinson è una storia assolutamente anticonvenzionale dove non ci si ferma mai in questo viaggio esplorando luoghi incantati creature e insomma cercando di capire la propria strada ed essendo sempre sorpresi dal fatto che la strada forse non ha un percorso lineare ha un percorso di esplorazione dove forse la bellezza del viaggio e del viaggiare leggeri insomma è quello che veramente conta e forse è un po' il senso di questo 2020 per il leone invece sicuramente parlando di premesse iniziali che non corrispondono alle premesse iniziali non posso fare altro che suggerirvi buona apocalisse a tutti aka good omens di Terry Pratchett e Neil Gaiman non sarà la prima volta probabilmente che sentirete Neil Gaiman in questi consigli in ogni caso è come dire buona apocalisse a tutti ci ricorda che può andare male molto male ma cerchiamo di cambiare le cose cerchiamo di ragionare molto bene su come potremmo aggiustarle anche quelle peggiori tipo l'apocalisse passiamo al segno della vergine nel 2020 la vergine riesce ad avere la meglio in una situazione molto caotica che per molto tempo non le ha reso la vita facile e l'ha messa in seria difficoltà che sia la casa la famiglia l'amore il lavoro insomma non conta è come se questo segno una volta sbloccata questa situazione ingarbugliata è come se rifiorisse come se riprendesse in mano tutto il resto e lo guardasse con una fiducia ritrovata insomma come se riprendesse in mano le redini della propria vita perché non è più bloccata da quella situazione particolarmente astiosa è come se non ci fosse più bisogno di stare perennemente in guardia quindi ci si può rilassare un attimo e finalmente dedicarsi al proprio benessere e non solo il proprio ma anche a quello delle persone che amiamo e che ci stanno attorno ci sono cose che probabilmente andranno costruite proprio da zero però non è il momento di avere paura so che è un segno abbastanza timoroso la vergine ma in questo caso avete tutti gli strumenti per fare tutto ciò che vi serve dovete non cedere alle insicurezze ma tenere duro perché la motivazione non vi manca insomma bisogna cercare quasi di distruggere quelle strutture che fondamentalmente non vi servono più o vi mettono in difficoltà ma trovare il modo di costruire invece le basi per ciò che volete per il futuro anche un po' un voi stessi chiamiamolo nuovo troverete nel 2020 una serie di strumenti dentro di voi per comunicare anche voi stessi meglio per esprimervi una maggiore fiducia proprio nel vostro valore nella vostra creatività un senso proprio più forte di ciò che e chi amate insomma prendete il 2020 come una sorta di grande piano d'azione che state costruendo per il vostro futuro insomma hobby relazioni amorose amicizie il lavoro ma anche decisioni molto importanti che dovrete prendere quest'anno si trasformeranno in una maniera molto profonda permanente ma anche positiva quindi bisogna affrontare tutto ciò con una dose massiccia di sicurezza ambizione ma anche conoscere se stessi sempre meglio sarà un anno proprio per mettersi anche un po' più in contatto con se stessi con le proprie scelte e ritrovare anche un po' di naturale fiducia che un po' è ora che vi mettiate addosso il vostro desiderio di bellezza di insomma di raggiungere alcune cose stimolerà molto la vostra creatività e questo è un segno assolutamente positivo e anche in amore sarà un anno importante anche perché il vostro bisogno di stare insieme di condividere i sentimenti di esprimervi è molto forte sarà molto spiccato ci sarà proprio bisogno di donare agli altri affetto e amore che siano amici che siano parenti cari insomma persone vicino a voi ma soprattutto ci sarà anche quella voglia quella ricerca di trovare una persona giusta per voi ottenerve la stretta e per i vergini singoli la spinta che vi farà incontrare qualcuno di giusto per voi proprio perché trasmetterete quella sensazione di bene e di affetto che volete arrivi alle altre persone allora che libro vi suggeriamo per il 2020 io e me stessa perché parlo al plurale va bene bisogna leggere una storia dove ci si mette un po' più a contatto con i propri sentimenti con la propria storia e forse si scoprono nuovi traguardi e nuove prospettive con una maggiore sicurezza ritrovata io sono certa che sia della vergine perché ne ho la certezza da quando l'ho letta Circe di Madeline Miller questa è una storia assolutamente straziante commovente ma che racconta fondamentalmente un'evoluzione un cambiamento un sentimento che è quello della gentilezza che sicuramente vi contraddistingue come segno e che secondo me è necessario assolutamente da leggere sempre ma soprattutto per prepararvi al 2020 se non l'avete ancora fatto tra l'altro perché state su questo canale che lo spingo da due anni come se non ci fosse un domani comunque invece l'altro libro che vi consiglio è Moon Cop di Thomas Gold che è una graphic novel che racconta una storia molto delicata molto sottile e che secondo me vi rappresenta molto bene in questo 2020 qualcosa che non avevamo mai elaborato delle sensazioni che forse ci mettevano in difficoltà e che volevamo trasmettere e proprio come il protagonista di Moon Cop troverete dei codici per poterli prima decifrare e sbrogliare e poi trasmetterli anche agli altri poi arriviamo alla bilancia che è sempre stata abituata non so a mandare avanti gli altri e negli ultimi anni lo ha fatto più del solito e nel 2020 la bilancia dovrà prendere la propria vita e rimettersi al centro e per una volta non avere paura di metterci la faccia deve emanciparsi rendersi indipendente e anche organizzare e pianificare i propri progetti per il futuro cara bilancia il 2020 porterà sicuramente una serie di rinnovamenti sia nella tua vita privata amorosa nelle relazioni nel mondo domestico ed emotivo soprattutto ed è arrivato proprio il momento prima di riflettere ma soprattutto per fare qualcosa che migliori le tue condizioni di vita la tua autostima e il tuo benessere quest'anno troverai molta più gioia nel riordinare nel rimettere mano alla tua vita domestica e hai una determinazione mai vista prima nel migliorare le cose e mentre stai rimettendo mano alla tua vita personale a ciò che significano gli affetti eccetera eccetera è anche un'ottima opportunità per mettersi in situazioni che allarghino i tuoi orizzonti quindi magari sperimentare cose nuove entrare in contatto con persone dal background completamente diverso dal tuo viaggiare studiare approfondire ambiti che magari hai sempre rimandato o che ti hanno sempre un po' fatto paura ci saranno diversi momenti durante l'anno dove ti chiederai spesso se quello che stai facendo se la tua vita ti soddisfa e forse quest'anno sarà l'anno in cui anche proprio per il movimento dei pianeti dove le convinzioni che svilupperete saranno effettivamente quelle che vi porterete addosso per tutto il resto della vita rinsalderete ciò in cui credete troverete dei nuovi spunti che vi aprono gli orizzonti e che chiaramente possono a volte ribaltarvi ma molto spesso arricchirvi e questo sarà prezioso sarà un viaggio un po' avventuroso anche il vostro in quest'anno sarà l'anno dove voi imparerete e riuscirete ad esprimere meglio voi stessi a capire chi siete cosa volete e ad esprimervi anche attraverso cose che non fanno parte della vostra routine quotidiana e anche in amore dovrete dimostrarvi se avete già una coppia molto più presenti e molto più partecipi e c'è una parte nell'inizio dell'anno con un movimento di urano che sicuramente vi renderà più aperti a sperimentare cose nuove a conoscere persone nuove e ad aprirvi anche a situazioni che prima avevate un po' messo in secondo piano prima avevate un po' paura di affrontare invece questa voglia questa ritrovata avventura anche in ambito sentimentale e sessuale sarà la vostra carta vincente del 2020 sarà un anno possiamo dire eccitante diverso pieno di avventura e voi dovrete essere bravi a non farvi spaventare da questi cambiamenti ma anzi a vederli come nuove opportunità e non essere mai chiusi dentro voi stessi ma cercare di aprirvi e arricchirvi nel 2020 proprio per queste premesse non posso che consigliarvi questi libri storie dove ci si mette al centro si scopre se stessi si sperimenta e si vivono grandi avventure quindi in prima non posso far altro che parlarvi di Lumberjanes che è sicuramente una serie dove al centro c'è sicuramente un gruppo molto forte che scopre anche tanta forza nell'unione ma soprattutto sperimenta viaggia non si fa mai abbattere e non ha mai paura e questo secondo me deve rappresentare quello che voi sarete nel 2020 e poi chiaramente io non potevo non nominare in questo caso 6 di Corvi di Libardugo che è proprio una ideologia che tratta sia di scoperta di se stessi affermazione e superamento del trauma ma soprattutto parla anche di rimettersi al centro non essere più calpestati e volere qualcosa di positivo per il proprio futuro senza mai la paura di non essere all'altezza perché quella ve la dovete lasciare alle spalle e vabbè c'è un modo per suggerire 6 di Corvi lo devo trovare arriviamo allo scorpione anche per voi il 2020 è un anno di apprendimento perché sarà un anno dove si scopriranno tante cose ne imparerete altrettanto ma soprattutto dovrete lavorare sullo stabilire connessioni in modi e in mondi per voi nuovi la vostra influenza verso l'esterno aumenta la vostra creatività ha un'energia pazzesca ottiene degli ottimi impulsi dall'esterno e questo vi darà l'opportunità di poter collaborare stabilire connessioni in una maniera molto diversa da quella a cui siete abituati condividendo cambiando alcune prospettive con sorprese che non mancheranno sorprese per lo più piacevoli la vostra prospettiva sta cambiando perché era necessario che cambiasse in questa fase della vostra vita e vi porterò su una nuova strada siete determinati perché ne sentite proprio le esigenze questo secondo me è lo spunto positivo da cui partire per questo nuovo anno entro la fine del 2020 riuscirai a mettere a terra un progetto che ti porterai avanti per tanto tempo e questo ti porterà un entusiasmo nuovo che ti farà anche guardare tutto il resto e tutti gli altri ambiti della tua vita con la voglia di sistemare mettere a posto relazioni che magari non funzionano chiarire dei dubbi dei problemi nella vita affettiva ma anche familiare e questo sarà un grande stimolo per te urano transita nella tua zona in ambito amoroso e questo potrebbe voler dire in realtà che stai attirando partner con cui non riusci a trovare una grande sintonia o insoliti o persone che potremmo dire ti fanno sentire un po' come se ti accontentassi e quindi non hai una piena soddisfazione dal punto di vista relazionale però invece che vedere questi incontri magari come qualcosa di negativo potrebbero essere una fase per te di sperimentazione di esplorazione e questa irrequietezza che si va a sviluppare invece deve diventare fonte di cambiamento e di motivazione perché in ambito amoroso c'è sempre un po' quella sensazione negli scorpioni come se da un lato volessero continuare a essere indipendenti e a ottenere sempre maggiore libertà anche nelle relazioni e dall'altro c'è un po' invece la sensazione è come se il mondo esterno ti stesse schiacciando opprimendo e obbligando a fare cose quindi a un certo punto bisognerà fare pace con se stessi e prendere quest'anno come un esperimento un'esplorazione non c'è nulla di male se le cose non vanno è il momento di spingerti nel provare a essere coinvolto in attività ma anche relazioni sarà il momento sia nelle relazioni ma anche in tanti altri ambiti dove c'è bisogno di spingerti hai bisogno anche di un po' di sana competizione e anche se ci saranno situazioni problematiche lo scorpione dovrà vederle sempre come opportunità e anche con un atteggiamento un po' più propositivo rilassato meno pronto alla battaglia potremmo dire lo scorpione troverà il modo di attirare ciò che desidera invece che per forza respingerlo perché vuole fare tutto con forza e da solo cogliete l'opportunità nel 2020 di chiedere a qualcuno di uscire anche che sia un amico cercate sempre di più il contatto con l'esterno e la collaborazione per voi saranno fonti di crisi di stress ma sicuramente si riveleranno molto positivi e quale libro può fare per voi nel 2020? sicuramente una storia dove scopriamo parti di noi che non avevamo considerato prima che non avevamo messo in conto e che forse in realtà ci possono dare la forza di superare tante cose il primo libro che vi consiglio chiaramente è The H.E.G.I.G.E. di Angie Thomas che insomma se non l'avete ancora letto ok perché è proprio la storia che racconta in una difficoltà in una tragedia così grande la forza di trovare la propria voce che è qualcosa di importante qualcosa su cui secondo me gli scorpioni hanno bisogno di lavorare e in questo caso è il libro perfetto dall'altro lato vi consiglio anche Neverwhere di Neil Gaiman che è proprio la storia di una scoperta di come l'avventura l'imprevisto e questo anche mettersi in gioco involontariamente porti a un'avventura magica unica e che sarà molto utile negli anni a venire e quindi questi sono sicuramente due libri che voi dovrete leggere nel 2020 Sagittario anche per il Sagittario invece il 2020 è un anno di ripresa un po' per tutti perché si conclude un ciclo solare e poi ne inizierà un altro la ripresa inizia finalmente a dare i suoi frutti a vedersi a essere un po' più tangibile e anche in amore è arrivato il momento di mettersi di impegno magari a volte sondando un po' il terreno e altre volte preparando delle basi un po' più solide è un periodo molto potente per ricominciare da capo ricostruire o apportare modifiche significativi nell'ambito economico nel reddito ma non solo ma anche migliorare alcuni ambiti che possono darvi sicurezza personale autostima e anche un po' di tranquillità da un lato vi sentirete un po' più disciplinati questo vi porterà una sorta di senso di autocompiacimento che va bene ma metterlo in atto poi sarà secondo me la vostra sorpresa del 2020 costruire qualcosa di solido di nuovo di duraturo per voi stessi sarà la fonte di maggiore soddisfazione di tutto l'anno prossimo soprattutto in ambito economico sarà un anno importante perché dovrete lavorare molto sul trovare nuovi spunti magari rimettervi in gioco rivalutare cose che non avevate considerato insomma grazie a giove voi dovrete riguardare un po' ambiti che non avevate considerato sicuramente dal punto di vista delle entrate economiche ma anche nel campo degli affetti infatti sentirete anche un grande bisogno magari vicino a quello dell'affermazione economica nel ritrovato senso di insomma riprendervi in mano un po' le redini dal punto di vista lavorativo e non solo un forte bisogno di armonia di benessere personale soprattutto ma anche di affetto i vostri sentimenti eccetera sono ciò che governerà moltissime delle vostre scelte e se da un lato finalmente inizierete a vedere i frutti di ciò a cui avete lavorato e anche un anno tendenzialmente positivo non dovete mai perdere di mira invece alcuni valori fondamentali che devono fare parte anche del vostro futuro ricordatevi sempre che il vostro modo di fare può essere differente da quello che una persona di fronte a voi in una relazione in un semplicemente in un rapporto anche di amicizia o di affetto può provare quindi il consiglio sicuramente per il 2020 dal punto di vista dell'amore è quello di cercare un po' di smussare alcuni angoli mettervi nei panni dell'altro e cercare prima di ovviamente prendere decisioni molto drastiche sempre di provare a capire l'altro a discuterne a chiarire perché imparerete sempre qualcosa dall'altro che sia un amico ma che sia anche magari una persona con cui potenzialmente potreste avere una relazione importante che mettervi anche un po' più in discussione e smussare un po' i vostri angoli è qualcosa che vi darà grandissima soddisfazione e in fondo siete anche in una fase dove avete bisogno di affetto di amore e di sostegno anche sentimentale non dovete fare mai in modo che l'ego e un po' quelle che sono i vostri paletti siano invece ostacoli a relazioni e a rapporti che invece potrebbero darvi grandissima soddisfazione anche perché quest'anno sarete anche focalizzati dal punto di vista economico lavorativo eccetera quindi dovete cercare un attimo di avere tutto un po' più sotto controllo quali sono i miei consigli per il 2020? secondo me avete bisogno di leggere delle storie dove le difficoltà sono solo il punto di inizio ma che danno l'opportunità gli strumenti e la forza di affrontare invece un futuro molto più luminoso molto positivo con grande entusiasmo e quindi in questo caso il primo libro che vi consiglio è l'architettrice di Melania Mazzucco che infatti è un po' quello che avevo appena raccontato una storia dove ci sono difficoltà insormontabili le leggi le convenzioni il genere proprio a tenere lontano la persona dalla propria realizzazione eppure quello non viene mai visto solo e unicamente come una difficoltà o un qualcosa di negativo ma anzi è un modo proprio per trovare invece degli spunti una realizzazione personale e questo sarà quello che voi dovrete perseguire stando molto attenti a tenere un po' tutto bilanciato la seconda storia che vi consiglio invece è la buia discesa di Elisabeth Frankenstein di Kirsten White perché in questo caso ci troviamo di fronte a Elisabeth che affronta una serie di difficoltà davvero enormi soprattutto durante le relazioni che accetta praticamente tutto pur di avere la salvezza in questo caso Elisabeth affronta una relazione tediosa sminuente e molto abusiva e deve uscirne impara durante la propria storia che quella parte della sua vita non è stata l'unica parte che è stata rilevante ma anzi è solo l'inizio per un futuro invece molto diverso più consapevole e più luminoso che è quello che dovrete fare anche voi arriviamo al capricorno il capricorno per anni ha subito è stato zitto ha incassato tutti i colpi senza fiatare cioè parliamoci chiaro non è vero che il capricorno è stato zitto senza fiatare non ci crede nessuno però comunque ha mungugnato nell'angolo quanto meno ma finalmente il 2020 è l'anno della rivincita avete un progetto che vi sta a cuore e da anni magari state rimandando oppure avete solo atteso che si realizzasse e infatti questo sarà l'anno dove questo progetto che per voi significa molto ma che magari avete messo un po' da parte vedrà la sua realizzazione e non mancherà neanche un po' di tenerezza quest'anno che secondo me vi farà molto bene perché ci saranno numerose occasioni di mostrare il vostro lato più romantico quello più tenero sia nelle coppie ma sia anche per quelli che da anni si sono ritirati nella loro capcaverna chiamiamola così quella del capricorno quest'anno è un anno importante per apportare cambiamenti positivi alla vostra vita al vostro stile di vita alle amicizie alle varie connessioni che avete stabilito e che stabilirete ma soprattutto anche per esprimervi con una certa sicurezza dovrete mettere al centro in questo 2020 le vostre iniziative personali l'idea di migliorarvi e di ascoltarvi un po' di più insomma avete accumulato una serie di problemi nel guardarvi e nell'avere fiducia forse in voi stessi e che si riflettono quindi in come vi presentate al mondo esterno però troverete invece più tempo anche per pensare a voi stessi per dedicarvi ad attività più frivole più di svago di intrattenimento a un hobby che avete un po' tralasciato ma anche magari ad esplorare un po' l'ambito romantico con appuntamenti magari che non erano in programma e cose di questo tipo insomma troverete anche in queste strade che di solito non fanno parte di voi che siete un po' più inquadrati che vi porterà soprattutto ad esplorare ed esprimere voi stessi insomma tutti questi progetti lo studio la sperimentazione e anche i passatempi saranno la fonte di maggiore soddisfazione per voi quest'anno Saturno sarà nel vostro segno però è probabilmente l'unico segno che non so a Saturno non piace il Capricorno al Capricorno non piace Saturno è una cosa inspiegabile ma è così perché a voi piace un po' il senso di responsabilità che Saturno si porta dietro perché ti dà una certa fiducia la responsabilità è qualcosa che vi fa sentire in qualche modo anche un po' completi bravi l'accogliete senza esserne troppo spaventati e questo 2020 invece dal punto di vista delle relazioni sarà un anno chiarificatore per voi perché troverete un buon equilibrio tra la vostra realizzazione personale quindi fiducia quindi per voi fonte anche di felicità e di soddisfazione se siete già all'interno di una relazione questo darà a voi la fiducia necessaria per poter rafforzare il rapporto ma se siete invece capricorni singoli vi darà l'occasione invece proprio per acquisire maggiore sicurezza dimostrarvi un po' meno diciamo preoccupati magari delle vostre carenze dei vostri difetti e la paura di essere in difetto rispetto ad altri ecco questo si vedrà all'esterno e questo vi porterà ad attirare più persone attorno a voi ad essere più aperti e più propositivi e questo sarà sicuramente un ottimo anno anche per il capricorno insomma avrete molto chiare quali sono le vostre esigenze non sprecate le occasioni e quindi 2020 che libri vi consiglio da leggere perché bisogna leggere una storia del chi ha finito di chiudersi agli altri sopprimere un po' se stessi ma che vi porta verso mondi inesplorati fiducia ritrovata eccetera e quindi il primo libro che vi consiglia sicuramente Stardust di Neil Gaiman l'ho detto che l'avrei citato più di una volta e in questo caso noi ci troviamo davanti a una porta che si apre su un mondo fantastico pieno anche di misteri e di questioni risolte dove il nostro protagonista dovrà in qualche modo riuscire a raccapezzarsi ma un po' rappresenta il vostro 2020 aprite quella porta e non abbiate paura perché questo è un anno dove voi potrete fare qualcosa di importante per voi stessi l'altro libro che vi consiglio proprio perché si parla di porte che si aprono e che vi fanno scoprire qualcosa tanto su voi stessi quanto sull'ambiente che vi circonda è il giardino segreto che non poteva mancare in questa lista perché rappresenta esattamente quello che dovrete un po' fare anche voi in questo 2020 perché dovrete un po' fare quello che succede ai nostri protagonisti da un lato conoscersi avvicinarsi acquisire sicurezza e non avere paura dell'altro perché vi darà anche la forza di mettere a frutto le vostre qualità migliori e questo sicuramente è un ottimo consiglio per il Capricorno del 2020 siamo quasi arrivati alla fine perché siamo all'acquario e nel 2020 l'acquario è come se resettasse un po' tutto riprogramma ogni aspetto della propria vita riscopre anche il valore di alcune cose che aveva magari ritenuto superflue cerca una vita un po' più a misura di sé e di sintonizzarsi meglio con le proprie emozioni perché forse per troppo tempo è stato in difficoltà e ha cercato un po' di disperdere alcuni ragionamenti sulle proprie emozioni è un anno importante per mettere tutto in ordine dalla vita affettiva al lavoro e anche se stessi dovete proprio eliminare ciò che è di troppo e mettere ordine in quello che invece volete tenere insomma ciò che non serve lasciatelo nel 2019 la maggiore differenza rispetto agli ultimi anni infatti nel 2020 sarà che finalmente riuscite a vedere intravedere una via da seguire un proposito un progetto una nuova realizzazione una nuova epifania e questo si traduce in una maggiore chiarezza in tutti gli ambiti della vostra vita so che probabilmente è più facile intrattenersi e indugiare sulle cose che vi hanno trattenuto che vi hanno messo in difficoltà o impedito di compiere nuovi inizi però questi sentimenti buttatele via e pensate invece a ciò che invece vi interessa fare ciò che volete progettare programmare non indugiate su senso di colpa paure insicurezze eccetera eccetera queste sono le cose che a voi vi trattengono ma quest'anno dovrete tenere queste emozioni a bada perché sono ciò che vi trattiene vi ferma anche perché giove transita nel vostro segno quindi questo vi dà la forza per compiere delle decisioni necessarie e lasciare un pochino da parte anche la paura la scoperta di se stessi e l'indagine un po' su ciò che siete su ciò che volete fare su ciò che magari fino ad ora vi aveva messo in difficoltà sarà un tema molto portante di questo 2020 e si rifletterà tantissimo anche sulla vita sociale sulle relazioni sulle amicizie ma anche scoprendo dei nuovi modi per esprimervi e per divertirvi per rilassarvi per stare bene con voi stessi quest'anno anche dal punto di vista dell'amore sarà un anno per rimettersi un po' in sintonia e trovare anche i modi giusti per farlo perché sarà quella la vera sfida dovrete cercare di esprimere sempre verso l'esterno anche i sentimenti che sono più positivi la lealtà l'affidabilità la sensualità addirittura concedetevi sempre qualcosa in più che prima magari non vi siete mai concessi la vostra grande ricerca dell'armonia del mantenere l'equilibrio del fare concessioni proprio perché avete un grande senso diplomatico non dovete più viverlo come qualcosa che a un certo punto vi mette in secondo piano vi fa raggiungere dei compromessi che non vi fanno stare bene ma anzi dovete invece vederlo come un grande spunto per poter arrivare al centro di una relazione di un gruppo eccetera dove voi siete un po' il mediano siete quello che sbroglia le situazioni siete la persona che crea più connessioni possibili proprio perché si mette nei panni di tutti senza sacrificare i propri mi raccomando che libro vi consiglio nel 2020 con cosa premiamo gli acquari bisogna leggere una storia di qualcuno che si è lasciato alle spalle le negatività le cose brutte le cose che ci hanno messo in difficoltà per scoprire invece nuovi lati di sé cose positive territori inesplorati e il primo libro di cui vi parlo ve ne parlo spesso è Beauty Queens di Libba Bray in questo caso le negatività sono rappresentate dall'inizio del contesto perché ci troviamo con un gruppo di Beauty Queens ovvero di reginette di bellezza potremmo dire che durante un incidente aereo arrivano su un'isola deserta potrebbe essere un disastro essendo tutte Beauty Queens ma invece si rivelerà un'occasione fondamentale per tutte loro perché farà scoprire tantissimi aspetti di loro tante cose di loro stesse e soprattutto troveranno e stabiliranno connessioni fortissime questo è quello che dovrete fare anche voi acquario e l'altro libro che non posso fare altro che suggerirvi è Addio Fantasmi di Nadia Terranova infatti in questo caso la nostra protagonista dovrà proprio buttarsi alle spalle il passato ciò che l'ha sempre tormentata ciò che non l'abbandona mai proprio come un fantasma e quel fantasma sarà sempre presente ma lei dovrà farci conti dovrà trovare in modo i codici e gli strumenti per poter guardare invece al futuro che è quello che invece deve inseguire deve perseguire e questi sono due libri che secondo me sono adattissimi a rappresentare il 2020 dell'acquario arriviamo finalmente all'ultimo segno che sono i pesci ovviamente e quest'anno sarà un grande anno anche per i pesci probabilmente lo potremmo definire l'anno della consacrazione perché negli ultimi anni avete seminato faticosamente tanti progetti tante relazioni tante cose che avete messo in piedi e finalmente questi progetti iniziano a dare i loro frutti pensatela un po' come un durissimo allenamento che alla fine vi ha dato degli addominali di ferro e siete pronti a scalare l'Everest è come se fosse un vero e proprio traguardo siete sopravvissuti avete resistito alle intemperie alle difficoltà e allo stesso tempo forse è arrivato il momento per mettere a fuoco un po' meglio i vostri obiettivi nuove progetti e nuove partenze che durano per voi per lungo tempo sarà un anno importante soprattutto anche per le reti sociali per il lavoro per le amicizie per le connessioni che stabilirete e anzi dovrete essere molto bravi a sfruttare il lavoro intima collaborare in maniera sempre efficace ed è anche forse arrivato il momento in cui sia la vostra vita lavorativa e le connessioni che avete stabilito al lavoro i rapporti che avete al lavoro ma anche all'interno delle vostre amicizie sono ad un punto di svolta perché avrete la necessità di viverli in una maniera molto autentica senza dover per forza provare fatica provare sentimenti anche negativi e contrastanti e le vostre connessioni le vostre relazioni non dovranno più essere una fonte che vi fa sentire quasi prosciugati ma invece saranno occasioni proprio per mettere più a fuoco o vedere in una maniera più ampia e dinamica il vostro progetto il vostro grande progetto e in questo momento i pesci che finalmente tirano un po' di sollievo dopo tutta questa grande fatica potranno essere sicuramente più affascinanti attirare sempre di più persone positive all'interno della loro vita perché trasmettono positività e non solo amici ma anche ammiratori fate proprio un'ottima impressione perché finalmente non siete più affaticati non siete più esausti non siete più completamente alla deriva di tutto ciò che vi dovete portare sulle spalle insomma è un momento questo dove finalmente il vostro duro lavoro darà dei frutti ma anche in cui attirate tantissimo le attenzioni l'affetto e venite fortemente apprezzati dall'esterno proprio perché si vede insomma è un momento dove siete anche tranquilli dove vi sentite bene e volete attirare bellezza e cercate un po' di bellezza nelle vostre vite che sia dal vostro aspetto fisico a magari allestire migliorare creare qualcosa è qualcosa che vi darà grande stimolo insomma è un gran anno per i pesci anzi è forse proprio uno dei segni più forti perché finalmente riuscirà a essere più sereno a trasmettere positività e ad attirare verso di sé le persone giuste questo aprirà ovviamente grandi questioni dal punto di vista amoroso perché siete praticamente voluti da tutti perché davvero attirate l'attenzione di tutti questa vostra positività ritrovata è così inaspettata che potrebbe rivelarsi molto interessante dal punto di vista dei pesci singoli perché potrebbero attirare l'attenzione di nuovi partner che chissà che vedendo anche tutto questo vostro nuovo entusiasmo non diventino anche relazioni durature e quindi visto che questo sarà un gran anno che consigli vi diamo per il 2020 io e evidentemente la me stessa bis essendo gemelli posso parlare di me stessa al plurale evidentemente bisogna leggere storie dove un duro allenamento e tante difficoltà ti premiano per diventare proprio la versione migliore di voi stessi e guadagnare così tantissima fiducia il primo titolo che vi consiglia è sicuramente The Poetics di Elisabeth Attevedo troviamo una storia dilaniante scritta in versi qualcosa che vi rappresenterà sicuramente molto rappresenterà il voi stesso del passato e tutto quello che avete dovuto affrontare ma che vi darà anche lo spunto per vedere un futuro in maniera positiva e quindi ottenere la fiducia necessaria per guardare al vostro progetto cullarlo curarlo e farlo splendere l'altra lettura che vi consiglio sicuramente è Wonder Woman Warbringer di Leigh Bardugo perché in questo caso ci troviamo di fronte a una storia che conosciamo molto bene fatta di grandissime avversità ma dove ad esempio si troverà grande forza soprattutto anche nel gioco di squadra e dopo l'aver vissuto numerose difficoltà cose che potrebbero abbattere chiunque invece è diventato un motivo per stringere ancora più forte la mano di chi vi sta vicino e andare insieme verso traguardi del futuro che sicuramente viverli da soli è soddisfacente viverli insieme è ancora meglio beh direi che ovviamente la vostra Tiffany Fox ha finito scherzo ovviamente però insomma spero sia stato un video leggero divertente di avervi trasmesso un po' di carica perché il 2020 sarà davvero un bellissimo anno secondo l'oroscopo per tutti noi ci rivediamo quasi sempre e io direi che insomma sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate se insomma quali sono i vostri grandi progetti per il 2020 se i miei suggerimenti sono calzanti chiaramente ragazzi questo è veramente un video molto stupido io me ne rendo conto ma io faccio solo dei pipponi di approfondimento super seri per cui ci metto settimane invece questo volevo che fosse un video leggero ogni tanto capita anche su questo canale niente io vi auguro un 2020 scintillante splendente perché voi siete sempre le mie stelle come vi chiamo su instagram perché a me viene più naturale insomma noi ci vedremo qua tra pochi giorni con qualche video e niente i miei migliori auguri per questo 2020 che ci porti tante cose belle a tutti e niente ragazzi alla prossima ciao